Sono qui per parlarvi del corso di psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e della coppia, conosciuto anche come Corso Asnesipsia e che è in via di rinominazione come Istituto Winnicott. Il mio compito è quello di illustrarvi brevemente le caratteristiche del corso, che però sono anche reperibili online nell'equivalente di questo libretto, ma soprattutto per cercare di esprimere dal vivo quali sono le caratteristiche esalienti del nostro corso e quali sono i vantaggi di chi iscrivendosi al nostro corso e percorrendolo tutto attraverso i vari step che sono previsti, alla fine riesce ad avere una qualificazione di alto livello nel campo della professione della psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell'adolescente. Io sono Vincenzo Bonleminio, sono professore aggregato di neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiali dell'età evolutiva, ora Pediatria e Neuropsichiatria Infantive e sono il direttore del corso di cui vi parlerò e sono anche il direttore del centro Winnicott di cui poi parlerò in particolare perché è una delle facilities, una delle possibilità in più, ma non è la sola, che il corso offre a chi vuole iscriversi e frequentarlo. La struttura del corso, come vi dicevo, la potete trovare facilmente nel dettaglio o sulla pubblicazione online che vi ho fatto vedere prima, però volevo brevemente darvi un po' un'immagine un po' più complessiva, più sintetica. Formalmente il corso è diviso in due bienni, è un biennio di preparazione clinica che prima veniva chiamato biennio preclinico, in realtà l'attività clinica si fa ab inizio e quindi è un biennio di esercitazione e lavoro clinico, soprattutto sul piano diagnostico della valutazione della psicopatologia infantile, delle varie forme in cui essa si presenta e anche dell'adolescenza ovviamente e caratteristica portante del nostro corso è la visione binoculare sia sul bambino sull'adolescente e la coppia dei genitori e infatti nella metodologia sia diagnostica che psicoterapeutica una caratteristica che ci contraddistingue è quella di procedere di pari passo, ovvero è possibile quando ci sono le indicazioni e qui poi mi soffermerò brevemente, di procedere parallelamente in setting separati per il bambino o l'adolescente e la coppia dei genitori, il fatto che i setting siano separati ha un motivo molto elementare, cioè il rispetto della privacy del bambino e dell'adolescente, ma ha anche un razionale di tipo teorico e tecnico perché abbiamo visto che non è possibile vedere un bambino o un adolescente estrapolato dal suo contesto, però è molto utile poterlo vedere in una situazione in cui il bambino o l'adolescente si sentono pienamente corresponsabilizzati nel lavoro che vanno facendo e quindi molto viene curato affinché i due setting non abbiano nessuna commissione, anche se poi è facile capire questo è un compito clinico e tecnico specifico dello psicoterapeuta, saper mantenere e saper contenere soprattutto le intrusioni che i genitori tendono a fare nella psicoterapia. Naturalmente non è solo questo il caso perché molto spesso i bambini molto piccoli richiedono invece la presenza dei genitori, in particolare della madre nella stanza e qui risiede un'altra caratteristica specifica del nostro metodo di insegnamento, del nostro approccio clinico che si rifà al pensiero e soprattutto alla pratica clinica indipendente psicoanalitica e che ha come principale punto di riferimento il pensiero di Winnicott per il quale appunto come vi dicevo prima noi abbiamo fondato un centro Winnicott che è tra i più noti nel mondo e dialogo con gli altri centri Winnicott che ci sono nel mondo, non ce ne sono tantissimi ma insomma che ha prodotto anche sul piano della pubblicistica contributi di notevole livello quindi eravamo rimasti a una caratteristica clinica del nostro corso e dell'apprendimento che noi forniamo ai nostri allievi quando il bambino è molto piccolo spesso si richiede la presenza dei genitori, in particolare della madre in seduta che può durare tutta la psicoterapia e in questo caso questa forma di psicoterapia che si chiama psicoterapia madre del bambino riceve una particolare attenzione perché ha delle particolari caratteristiche tecniche oppure c'è solo un periodo iniziale in cui il bambino ha bisogno di fidarsi dello psicoterapeuta o della psicoterapeuta e dopo un certo periodo di tempo il bambino può rimanere da solo in istanza naturalmente questo è molto indicativo perché un bambino che è capace dopo una prima fase di fusione con la madre di separarsi già dà delle indicazioni prognostiche e cliniche molto importanti per lo sviluppo della psicoterapia questo non significa che quando si fa il lavoro sempre con la madre le prospettive prognostiche sono negative, significa solo che probabilmente c'è un diverso tipo di psicopatologia che richiede per lungo tempo un lavoro congiunto sulla madre e sul bambino e per esempio spesso si interpreta come diciamo noi un comportamento alla madre perché il bambino lo capisca o viceversa si interpreta un comportamento al bambino perché la madre lo capisca ed entri in un rapporto dinamico con lo psicoterapeuta. Nel secondo bienio tutta questa parte più di preparazione che è fondata sulla clinica ma sulla diagnostica prevalentemente prende una forma più decisa perché c'è un vero e proprio viraggio verso la psicoterapia, gli allievi sono abilitati, autorizzati a prendere in trattamento dei casi in supervisione individuale e quindi iniziano il vero e proprio percorso di apprendimento psicoterapeutico con tre bambini, con tre soggetti in età diversa, questo per variegare l'esperienza, quindi un bambino in età di prelatenza, un bambino in età scolare e un adolescente. Naturalmente non sempre questo è realizzabile ma diciamo lo schema di base è questo. Come vi dicevo ogni allievo ha una supervisione individuale che sceglie nel vasto ambito dei nostri docenti, devo dire sono docenti di prima qualità che hanno alle loro spalle una lunga esperienza clinica, molti di loro si sono anche diplomati nella nostra scuola che colgo l'occasione di dire è forse la più antica scuola di psicoterapia psicoanalitica esistente non solo a Roma ma anche in Italia, la nostra è forse un'altra diciamo gemella e ha un suo riconoscimento internazionale, tanto è vero che il nostro corso è stato visitato in questi 35 anni in cui ha appunto esercitato la sua attività di formazione da nomi di tutto rilievo della psicoanalisi internazionale e anche questo voi lo potete trovare sul sito, quindi è inutile io mi dilungo a parlare del lungo periodo, 10 anni in cui la Tastin pioniera del trattamento psicoanalitico dei bambini autistici è venuta in istituto, Bollas e altri autori di alto livello fino a Gabbard recentemente. Nel secondo biennio dicevo inizia la parte diciamo più applicativa che però diciamo ha le sue propaggini già preparate nel primo biennio, nel senso che spesso alcuni allievi prendono appena possibile, appena il tutor e adesso parlerò anche di questo, lo ritiene opportuno, può incominciare a prendere in trattamento sempre sotto supervisione, un caso anche prima di aver concluso il primo biennio. Ripeto, non mi soffermo sulle parti più burocratiche, gli esami di fine anno eccetera, perché quelle sono quelle che sono richieste dal Ministero e comunque le troverete online. Quello che a noi interessa è un tipo di trasmissione della professione della psicoterapia che coniughi contemporaneamente un insegnamento individualizzato che si realizza soprattutto attraverso la supervisione individuale secondo la migliore tradizione psicoanalitica e un invece apprendimento che avviene in piccoli gruppi, quindi noi abbiamo per ogni anno di corso un gruppo che in genere rimane costante nel tempo, che può variare dai 6 agli 8 ai 10, 12 allievi a secondo sia delle selezioni che vengono fatte, sia del fatto che alcuni allievi spesso prendono un periodo di sospensione per gravidanza oppure devono ripetere un esame e quindi rientrano nel gruppo più tardi, ma comunque c'è sempre la massima disponibilità da parte dei docenti a far sì che l'allievo si senta a casa propria, quindi non c'è un insegnamento di tipo autoritario, paritetico con la differenza ben tenuta presente che chi insegna sono i docenti e che hanno questa responsabilità di trasmettere la psicoterapia e chi impara sono gli allievi, ma che però partecipano anche alla vita della scuola in modo molto diretto e questo se ci sarà qualche intervento poi anche di qualche allievo ve lo potrà anche illustrare direttamente. La caratteristica importante è che noi cerchiamo di coniugare un insegnamento molto individualizzato, ritagliato sulla persona e questo lo garantisce come dicevo secondo la migliore tradizione psicoanalitica la supervisione individuale che è di frequenza settimanale per un minimo di due anni e dall'altra parte anche invece questo insegnamento in piccoli gruppi in cui sia per la parte teorica ma soprattutto per la parte clinica, cioè i seminari in cui vengono portati in supervisione casi di bambini, adolescenti, di coppie di genitori, a volte di famiglie oppure consultazioni terapeutiche particolarmente complesse, c'è una possibilità di apprendere una molteplicità di casistica che quindi moltiplica l'esperienza clinica dell'allievo. Questa è la parte più istituzionale ma chi si iscrive al nostro corso, al distituto guinico, adesso lo chiamiamo così anche se formalmente si chiama ancora corso di psicoterapia, psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e della coppia che si iscrive al distituto guinico è molto spronato a variegare molto la propria esperienza clinica, quindi i tre casi di cui parlavo prima sono i casi istituzionali come dire necessari e sufficienti perché si arrivi alla fine del corso con una preparazione professionale in grado di mettere il diplomando, poi diplomato, nella condizione di essere un professionista nel campo della psicoterapia del bambino, dell'adolescente e della coppia. Tra l'altro un'altra caratteristica è che noi abbiamo anche al nostro interno, cioè abbiamo un rapporto molto stretto con la società italiana di psicoterapia, psicoanalitica dell'infanzia dell'adolescenza che è formata dai diplomati, dai professionisti che sono stati formati verso la nostra scuola, quindi l'allievo che finisce il nostro corso entra automaticamente in un ambiente scientifico altrettanto stimolante e dove potrà però continuare il suo apprendimento in gruppi di pari in gruppi di studio attraverso la presentazione di materiale clinico, attraverso la partecipazione appunto come dicevo a gruppi di studio che spesso si risolvono in pubblicazioni oppure in congressi, in seminari e così via. Anche la Sipsia ospita colleghi italiani e stranieri e quindi possiamo dire che la formazione è una formazione continua, molto più difficile nei primi anni, difficile nel senso che si deve impostare una mentalità di lavoro psicoterapeutico, ma i 35 anni in cui abbiamo lavorato ci danno la fondata certezza che i nostri allievi quando escono dalla nostra scuola sono ben in grado di trovare lavoro sia privatamente che nelle istituzioni, anche se sappiamo che questo problema delle istituzioni si va facendo sempre più difficile e comunque sono pochi gli allievi che dopo la nostra formazione non riescono nel giro di qualche anno ad impiantare un'attività clinica che sia anche remunerativa. Vi dicevo prima che è una delle varie facilities che offre il nostro corso, nella Sipsia che citavo prima esiste un centro clinico dove viene effettuata una psicoterapia di ottimo livello coordinata da un gruppo che si dedica particolarmente all'organizzazione sia pratica ma anche diagnostica e alle indicazioni terapeutiche di questo centro clinico e gli allievi possono esercitare come attività extra, diciamo al di fuori dei casi previsti dal punto di vista istituzionale, delle psicoterapie in supervisione naturalmente a basso costo che è un po' il prezzo da pagare ma che però garantisce come vi dicevo un'alta qualità. Quindi diciamo l'allievo che si inserisce nel curriculum bellistico di Winnicott riceve una varietà di input da quelli teorici che naturalmente non si fermano solamente a Winnicott ma a tutto il gruppo indipendente, ma a Melanie Klein, cioè ad Anna Freud, alla tradizione maggiore della psicoanalisi infantile fino a quella contemporanea naturalmente e anche una formazione clinica di qualità molto raffinata e variegata perché poi dicevo è in prospettiva l'apertura per esempio di un centro all'interno del centro Winnicott di consultazione delle situazioni di urgenza tra madre e neonato che sarà offerta gratuitamente perché il centro Winnicott è in collaborazione con la provincia e l'Università di Roma e quindi gli allievi sempre sotto la guida di un docente potranno svolgere lì questo lavoro che è della più grande importanza clinica perché permette appunto di diversificare l'esperienza clinica. Teniamo presente che questo è possibile, per esempio questa focalizzazione sul rapporto male-bambino perché una delle caratteristiche della nostra scuola a livello formativo è che nei primi due anni l'allievo oltre a seguire seminari di teoria psicoanalitica, di teoria della dinamica di coppia genitoriale, di psicopatologia dell'adolescenza, fa un seminario a cui noi teniamo moltissimo e che è un seminario di frequenza settimanale e che viene chiamato, è molto noto, è applicato in tutte le migliori scuole a orientamento psicoanalitico di infant and baby observation, osservazione del neonato e del bambino piccolo e che consiste in una sistematica osservazione settimanale di un bambino nel suo ambiente naturale, nella famiglia, quindi nel rapporto concreto con la madre e con i genitori e con i nonni che ci sono e con i fratellini e questa esperienza è veramente un'esperienza che abbiamo visto nel tempo fondante, non solo perché per conoscere e riuscire a trattare la psicopatologia bisogna saper prefigurarsi attraverso un'esperienza concreta che cos'è lo sviluppo normale di un bambino e infatti i nostri allievi vengono introdotti nelle famiglie con la esplicita dichiarazione che quello che loro vanno a fare è non un lavoro di osservazione a scopo terapeutico ma di puro apprendimento, quindi la funzione dell'allievo è quello di ricevere insegnamento dalla madre e dal bambino e da come loro si mettono in rapporto tra di loro e non c'è allievo ma direi non c'è nemmeno docente che non sia rimasto toccato da questa esperienza che ripeto ha una frequenza settimanale in cui una madre viene seguita dagli ultimi mesi di gravidanza per due anni e il seminario contrariamente agli altri seminari che hanno una frequenza quindicinale è settimanale proprio per assicurare all'allievo una diciamo costante monitoraggio dei progressi che il bambino, il neonato e il bambino piccolo fa e naturalmente anche in questo caso la struttura seminariale è fondamentale perché è vero che si fa una sola osservazione anche se alcuni di noi docenti per loro diciamo interesse ne hanno fatta più di una perché appunto è molto è una fonte di grande apprendimento ma proprio la struttura seminariale di piccolo gruppo permette e questo implica tra l'altro per noi un grande investimento perché è l'unico seminario in cui diciamo il gruppo è più ridotto e quindi usiamo tre o quattro docenti per questo seminario per anno anche lì è possibile appunto che l'allievo entri in contatto non solo con il proprio bambino della propria madre e la famiglia ma anche con il bambino delle madri e le famiglie degli altri colleghi quindi questo ovviamente come dicevo prima moltiplica in modo notevole la possibilità di apprendere dall'esperienza per usare una espressione di Bion. Un altro elemento che volevo dire che è appunto in questa individualità dell'insegnamento che però è accoppiata al lavoro di gruppo quindi si crea man mano una vera e propria dinamica di gruppo tra gli allievi diciamo una solidarietà anche a volte una normale conflittualità c'è però per ogni allievo la scelta spontanea o l'attribuzione di un tutor che ha lo scopo come dire di essere un po' un soggetto terzo e scelto tra i docenti ma a cui l'allievo potrebbe o può rivolgersi in caso di difficoltà o nell'insegnamento oppure l'insoddisfazione di come l'insegnamento viene svolto oppure per richiedere un maggiore approfondimento in alcuni settori ma soprattutto diciamo rappresenta un po' una guida che personalizza ulteriormente il percorso formativo quindi il tutor è la persona a cui l'allievo si rivolge per avere indicazioni su quali casi prendere e che è informato come dire più da vicino su tutta la sua diciamo sul suo curriculum sul suo percorso e quindi anche questo è un modello preso diciamo da scuole di psicoterapia sperimentate il modello fondamentale è quello che stava inaugurato alla fine degli anni 40 a Londra alla Tavisto Clinic che appunto è un modello basato sull'insegnamento individuale sulle supervisioni e sulla tutorship c'è un punto molto importante che vorrei sottolineare è un punto per noi qualificante ma naturalmente è spinoso perché come dire soprattutto dal punto di vista economico cioè è richiesto ad ogni allievo diciamo è richiesta un'analisi personale da effettuarsi con un membro di una società psicoanalitica riconosciuta dalla International Psychoanalytic Association e poi adesso vi spiegherò anche perché abbiamo fatto questa scelta in Italia rappresentata attualmente principalmente dalla SPI cioè dalla società psicoanalitica italiana e anche da un'altra società che si chiama AIPSI che è una società leggermente notevolmente più piccola di numero ma a livello qualitativo simile e analogo a quello della SPI perché noi abbiamo ritenuto di richiedere un'analisi di analisti di analisti SPI non perché pensiamo che analisti che provengano da altre società non abbiano lo stesso livello qualitativo ma perché l'IPA in quanto tale garantisce uno standard internazionale che è abbastanza controllato e quindi il dovere includere anche altre società avrebbe implicato per noi una necessità di andare a verificare una per una queste società e questo ovviamente avrebbe creato conflitti, sensi di discriminazione mentre facendo riferimento all'IPA facciamo un po' riferimento a un marchio di garanzia anche se noi stessi spesso ci sentiamo addolorati di non poter prendere allievi che per esempio fanno analisi mettiamo con nostri docenti che però per la loro scelta personale non hanno fatto il training della SPI o l'altro training però ecco ripeto non c'è in questo un'attitudine discriminativa nei confronti delle altre società con le quali anzi dialoghiamo sia di quelle di psicoterapia infantile sia quelle dello stesso livello della SPI ma la scelta è stata fatta per questo proprio per individuare come dire una specie di marchio di qualità poi ovviamente ogni analista è diverso dall'altro e ci saranno all'interno dell'IPA analisi più bravi meno bravi come succede in tutte le situazioni però ecco all'allievo è richiesto almeno entro i primi sei mesi di iniziare un'analisi naturalmente se l'analisi è già in corso tanto meglio e che sia un'analisi a tre settimanali che naturalmente rappresenta un costo aggiuntivo questo lo dico molto francamente la nostra è una scuola di altissimo livello ripeto riconosciuta a livello nazionale internazionale però è anche una scuola costosa quindi questo lo dico non per scoraggiare le persone ma per metterle a conoscenza del fatto che purtroppo se si vogliono ottenere dei buoni risultati nell'insegnamento e soprattutto se si vuole ottenere una buona qualificazione bisogna fare un certo investimento noi non siamo insensibili all'aspetto economico e veramente facciamo i salti mortali per tenere al limite più basso possibile il costo del corso che però appunto avendo molti docenti che sono anche diciamo sottopagati rispetto alla loro qualità comunque diciamo offrono un ottimo servizio ci sono molti servizi aggiuntivi che il corso offre ripeto le attività cliniche di gruppo la possibilità di fare l'attività presso il centro clinico presso il centro Winnicott che sono come dire per l'allievo a costo zero diciamo anche se fanno parte della sua iscrizione ma che però per noi non sono a costo zero perché implicano un certo investimento economico quindi mi rendo benissimo conto che non è un problema semplice quello economico ma noi stiamo lavorando per cercare di diciamo agevolare il più possibile gli allievi quindi in passato quando c'era maggiore disponibilità economica in genere nella società abbiamo dato anche delle borse di studio agli allievi adesso diciamo per un po' questo flusso si è interrotto perché non abbiamo più finanziamenti però stiamo studiando la possibilità di recuperare dei finanziamenti in modo tale da poter facilitare per gli allievi meritevoli però diciamo in condizioni economiche non facili di poter accedere al nostro corso con una borsa di studio o con diciamo dimezzare la quota di iscrizione che viene coperta dal corso questo è tutto diciamo in prospettiva però diciamo è un impegno morale da parte dei docenti di dirigersi in questa direzione quindi diciamo concluderei dicendo che ci sono moltissimi motivi per iscriversi al nostro corso e per frequentarlo innanzitutto come dire la certezza di acquisire una professionalità molto articolata e di ottima qualità che di per sé garantisce prima o poi la possibilità di lavoro pur in condizioni difficili come quelle odierne ma come si dice la merce buona nel tempo paga insomma viene venduta e poi appunto diciamo perché iscriversi a questo corso e non ad altri che pure hanno un equivalente standard scientifico pochi devo dire in tutta Italia insomma noi siamo tra i tre o quattro istituti che offrono questo alto standard perché in particolare il corso per sua tradizione essendo stato da sempre all'interno del dipartimento di scienze neurologiche e psichiali delle età evolutive ha sempre offerto una varietà clinica enorme di casistica quindi l'allievo che viene in questo corso vede diciamo materialmente ed entra in contatto con patologie che magari non curerà ma che però sa che esistono e quindi tanto è vero che ecco a livello di insegnamento il nostro scopo è quello di affinare molto la sensibilità clinica dell'allievo alla indicazione o anche alla controindicazione della psicoterapia del bambino e dell'adolescente perché noi non riteniamo che la psicoterapia sia la panacea per tutti i disturbi dell'ambito psichiatrico ma che la psicoterapia è uno strumento terapeutico efficace di elezione per alcuni casi per altri no e quindi deve essere come dire investito come risorsa laddove funziona in modo specifico e tutto l'ambito delle nevrosi infantili ma anche quello delle psicosi o dei disturbi per esempio di identità di genere parlo sia dei bambini che degli adolescenti oppure per i comportamenti antisociali è un ambito elettivo della psicoterapia diciamo premesso che viene effettuato un accurato lavoro diagnostico quindi io penso che di aver illustrato in modo senza esagerare ma senza nemmeno sminuire le caratteristiche del corso penso che ci sono ottime ragioni per iscriversi noi comunque siamo qui a Via dei Sabelli dove è la nostra sede una è le nostre due sedi l'altra è a Via Ghirza per ricevervi parlarvi individualmente per ascoltare le vostre richieste e per chiarire punti che eventualmente non sono sufficientemente chiari vi ringrazio molto per avermi ascoltato e vi auguro buon lavoro presso l'Istituto Winnicott o presso altre scuole di psicoterapia grazie a tutti